Ed eccoci qui sempre in spiaggia, sono Gianrico il capovillaggio in compagnia di un altro dei nostri fantastici ospiti Bello, bravo e soprattutto bello possente, quindi speriamo che ci dica qualcosa di buono Non è una forte club di scalea, è uno spettacolo, a parte l'animazione e il capo che... Vi voglio bene, vi voglio bene, ma detto ciò, no? Ah no, io ve l'ho detto è pericoloso, però in generale, in generale, come ti stai trovando? Diciamole agli amici di follower Stupendo, si mangia bene, si vede insomma che ce ne ho bisogno Eeeh, dall'alto, dall'alto Si mangia bene, si sta bene, la compagnia è straordinaria I ragazzi ci seguono in tutte le ore e tutte le fasi della giornata, quindi non posso che consigliarvelo Quindi invitiamo questi amici di follower a venirci a trovare? Assolutamente sì Perfetto, e allora amici ci vediamo qui, a pure la forte club di scalea e c'è pure il controllore Ciao ragazzi, ciao Ciao a tutti